direttore buongiorno ho trovato un aggancio che faccio il lavoro oggi grazie a tutti una persona carismatica ma concreta una persona che ti dà tranquillità una persona che non parla mai per insegnarti qualcosa parla perché lo sente e non devo fare male lezioni insomma non si può mai ergere ecco grazie a tutti grazie a tutti